Chi non si veste di marca, quindi chi non si veste firmato, in genere viene considerato come uno sfigato. Ecco, io oggi mi trovo qua a Roma, la mia città, c'è una giornata di sole incredibilmente magnifico. Il cielo, guardate, guardate il cielo alle mie spalle, è un blu intenso. Ed io oggi mi trovo qua, nella mia amatissima città, e devo riconoscere che è anche abbastanza pulita, guardate i cestini, per parlarvi del fatto che chi non è, e ripeto, chi non è, vestito, firmato, in genere, non dico sempre, ma spesso e volentieri, viene considerato come uno sfigato. Eh ma, quello, vedi, quello non si veste di marca. Sono queste le parole che in genere vengono dette, eh, adesso ve le emulerò. Eh ma, vedi, vedi, quello, quello non si veste di marca, quello non ha le scarpe da 250 euro, quello non ha il jeans da 150 euro, quello non ha la felpa della Nike, della Levis o della Napapiri. Quindi è uno sfigato in piena regola. Ecco, io mi sono stancato di assistere a parole del genere, io mi sono rotto i coglioni, scusate la parola, la parolaccia, io mi sono rotto le palle di assistere a persone che continuano a criticare, a dileggiare, a coglionare e a perculare chi non si veste di marca, quindi firmato, perché viene considerato proprio come uno sfigato. Non si veste di marca, quindi è uno sfigato. Dobbiamo percularlo, dobbiamo sottometterlo, dobbiamo insultarlo. Ecco, io a tutto questo dico no, io Leandro, conoscitore italiano, non ci sto. Ma dove sta scritto che mi devo vestire di marca? Ma dove sta scritto che mi devo vestire con un paio di scarpe da 150 euro, da 200 euro? Ma dove sta scritto che devo avere una maglietta o meglio una felpa da un centinaio di euro? Io vesto quello che voglio. Ecco, a questi cosiddetti figli di papà io dico una cosa ed è molto semplice. Ed è questa. Voi, cari figli di papà, vi potete permettere di vestire di marca, firmati, ma chi non ha molti soldi si deve accontentare di quello che ha. Di scarpe da 20-30 euro, di una felpa da 5-10 euro, una maglietta da 3 o 4 euro e via di seguito. Una persona si deve vestire come vuole. E sappiate una cosa, cari simpatici figli di papà, i cosiddetti paparini del cazzo. Ecco, cari paparini, sappiate che non è il vestito che fa il monaco. Voi vi potete vestire anche di marca, valete un sacco di soldi, però se dentro a quel cervelletto non avete un briciolo di sale, se non avete un briciolo di sale in zucca, ecco che quei vestiti da 300-500 euro si vanno a far benedire e non servono a nulla. E sappiate subito che ripeto, il vestito non fa il monaco. Io mi accetto per come sono. Mi vesto con abiti non di marca, mi vesto forse spenderò sulle 50 euro circa, no? Eppure mi accetto, eppure vado avanti, eppure sono qui. Guardate, guardate come mi vesto. Ho un cappotto di pelle, ho dei jeans, non sono i jeans di marca, eh? Saranno costati sui 10-15 euro, non ricordo bene. Scarpe forse da 30-40 euro. Ecco, io non mi vesto di marca, però io sono me stesso, con i miei pregi e i difetti. Perché devo vestire di marca e fare felici le persone, quando poi, se magari vesto di marca, non ho valore? Perché magari sono vuoto come una zucca, perché non ho un cervello funzionante, perché non ho caratteristiche etiche di rilevante importanza? Ecco, accettatevi per come siete. E se ci fosse qualcuno, ripeto, se ci fosse qualcuno che vi viene a dire, no, non vai nulla, non vale, tu sei un essere che non vale niente, perché non sei vestito di marca, ecco, ditegli, io vargo qualcosa dentro, io ho qualcosa da offrire a livello etico, io, con il vestito di marca, mi ci pulisco il buco del cuore. Va bene? Detto ciò, grazie a tutti, sono stato volgare, me ne rendo conto, chiedo scusa, come sempre faccio nei miei video, ma quando tratto certi argomenti, mi viene il sangue al cervello e non capisco più nulla, tanto che divento nero dalla rabbia. E da Leandro, conoscitore italiano, è tutto, iscrivetevi, se vi va, commentate, un saluto caro e al prossimo video.